è arrivata in città ci sono vari edifici la locanda il comune un mercato dimmi tu cosa vuoi visitare boh non lo so cosa c'è è la locanda il comune ah no boh sto lì vedo se succede qualcosa c'è un gruppo di persone che la folla è scalmanata sembra che vogliono impiccare un ladro la folla rumoreggia il tipo che sta per essere impiccato urla che innocente vuoi intervenire boh sto lì guardo beh a un certo punto ti si avvicina a una delle guardie dice e tu che guardi hai qualcosa da dire in merito no io no no bello impiccano e poi la folla festeggia un po e se ne va sì però sta questa è noiosa signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale prima puntata di questa stagione per quella che è la rubrica per i giocatori e cominciamo subito con un argomento decisamente controverso anche se non dovrebbe esserlo che riguarda tutti i giocatori indiscriminatamente da che filosofia di gioco seguiate o a che tavolo siate seduti viene spesso sottolineato come in tutti i giochi che prevedono il master o una figura equivalente la sua presenza è fondamentale e senza un master quel gioco non potrebbe andare avanti non potrebbe essere portato al tavolo semplicemente non si potrebbe giocare senza un master questa già di per sé un'affermazione che non è del tutto reale ma ne parleremo poi più avanti in un video dedicato per adesso limitiamoci a dire questo è comunque sicuramente vero che senza un master che faccia da figura di riferimento al tavolo geschisca i png metta in atto le trame moltissime quest del gioco di ruolo tradizionale neotradizionale e anche nell'osr e anche in altri alcuni specifici giochi new gen comunque senza la figura del master molto di quello che conosciamo come gioco di ruolo non potrebbe effettivamente essere portato al tavolo per voler essere chiari nella maggior parte di quei giochi che non prevedono il master in realtà non è che il master non ci sia e che i vari compiti che il master deve svolgere al tavolo sono ripartiti tra gli altri giocatori o semplicemente quello che si assume il ruolo del master è uno dei giocatori a turno in base a come sta avvenendo la scena o qual è il momento della quest quindi in realtà sarebbe anche scorretto dire che quei giochi non hanno un master esistono giochi che hanno un master ai giochi in cui tutti i giocatori sono il master ora per quanto in quanto master che ha e io sia particolarmente orgoglioso del ruolo che ha il master al tavolo della sua funzione del gioco di ruolo non stareste qui a guardare un video semplicemente per sentire me dire che il master è importante anche perché questa è la serie per i giocatori e il problema sta dopo qui capita che l'enorme importanza che viene dato al lavoro del master causi poi un ragionamento errato che faccia porre troppa enfasi sulla figura del master e che possa portare quindi degli altri problemi al tavolo ci sono giocatori infatti che partendo dal principio che il master sia estremamente importante all'interno del gioco di ruolo arrivano alla conclusione che loro possono permettersi di essere mere figure di contorno che non hanno in realtà alcuna reale funzione all'interno dell'economia del tavolo guarda caso non è così se i giocatori non fossero utili non avessero cose da fare durante il gioco il gioco non prevederebbe proprio che ci fossero altri giocatori oltre al master esistono giochi di ruolo che prevedono solamente il master che gioca una quest e muove tutti i personaggi sia i png che i pg forse ne avete sentito parlare si chiamano romanzi ovviamente non sto parlando di voi sto parlando degli altri giocatori senza il contributo attivo di tutti i membri del tavolo principalmente i giocatori a questo punto di vista non sia proprio l'esperienza del gioco di ruolo se voi vi aspettate di arrivare sedervi al tavolo tirare qualche dado quando vi viene esplicitamente richiesto e per il resto stare lì ad ascoltare quello del master sta dicendo non state giocando di ruolo state assistendo a qualche strana forma di teatro improvvisato in cui recita il master è ovvio che all'interno di un gruppo di gioco tutti i membri devono essere attivi e contribuire attivamente al gioco e alla narrazione su cosa debba fare il master per mantenere sempre i giocatori attenti e coinvolti nella storia ne abbiamo parlato innumerevoli video nei sette anni che sono passati quindi sicuramente non staremo a ripetarlo qui e non faremo neanche un riassunto questa è la serie sui giocatori quindi concentriamoci su di voi per prima cosa ricordatevi che i vostri personaggi esistono come tramite per la narrazione ne abbiamo parlato nel dettaglio sul video quello che farebbe il mio personaggio ve lo lascio linkato qui in alto ma riassumendo qua diciamo che i vostri personaggi servono per mandare avanti la storia quando siete chiamati a prendere una decisione per quanto riguarda il vostro personaggio la prima cosa a cui dovete pensare è quale decisione il mio personaggio potrebbe prendere che faciliti o renda più interessante la storia che sta venendo raccontata a tutti assieme se quando il cattivo arriva finalmente davanti al party inizia a fare un monologo si la cosa più razionale da fare sarebbe probabilmente quella di attaccarlo immediatamente tanto lui è il nemico e magari c'è la possibilità di coglierlo di sorpresa e rendere lo scontro più facile ma probabilmente quel monologo è un modo in cui il master sta fornendo informazioni a tutti i giocatori su cose che effettivamente sarebbero rilevanti per comprendere la quest quindi sì anche se non è la cosa razionale da fare e non è quello che una persona reale farebbe è meglio per il vostro personaggio lasciarlo parlare e ascoltare cosa da dire e qui potremmo andare avanti all'infinito a fare esempi ma non ce n'è bisogno ogni quest si baserà su qualche genere su qualche troppo su qualche filone narrativo universo immaginario e avete sicuramente visto film di quel genere letto libri di quel genere giocato a videogiochi di quel genere dovreste sapere quali sono i troppo che ci si aspetta ammezzata scena o in linea generale qual è il comportamento previsto per un personaggio anche all'interno di quel tipo di racconti il master è tenuto e diamo per scontato e cerchi sempre di coinvolgere i giocatori il più possibile all'interno della storia ma poi sta a voi giocatori fare in modo che quella storia venga narrata e che sia anche interessante da essere ascoltata e non diventi semplicemente un simulatore di cosa farebbe il mio personaggio che francamente non è poi così interessante il master comunque è una persona come tutte le altre non è infallibile ed è possibile che faccia degli errori che rendano effettivamente per voi più difficile contribuire attivamente alla narrazione in questo caso nulla vi vieta di parlare direttamente al master e spiegargli il problema anche perché nel caso si verifichi effettivamente questo problema in realtà le possibilità sono solamente due o il master per incapacità inesperienza errore quello che volete comunque il master sta cercando di fare in modo che i personaggi contribuiscano al meglio che possano ma non ci sta riuscendo magari semplicemente fra intende le reazioni di voi e degli altri membri del party o da per scontato delle cose che scontate non lo siano o l'alternativa è che il master lo sta facendo apposta e non è affatto interessato al fatto che i giocatori contribuiscono alla sua storia ed è lì solo perché gli piace il suono della sua voce nel primo caso risolvete parlando nel secondo caso allontanatevi dal tavolo evidentemente quella persona non ha le capacità minime per fare il master di tutto questo abbiamo parlato approfonditamente nel video sul paradosso di abilene vi lascio anche questo linkato se volete approfondire è effettivamente possibile che ci siano problemi dati dalla scarsa comunicazione al tavolo è normale normalmente frutto in esperienza comunque questo non vuol dire che la gente non debba perlomeno sforzarsi di risolvere questi problemi parlando tutti assieme e cercando di collaborare il più possibile il gioco di ruolo è un'esperienza collaborativa per l'appunto in questo video mi sono volutamente concentrato su quello che riguarda la narrazione al tavolo ma questo in realtà è solo uno degli aspetti che il master gestisce durante il gioco ed è solo una delle molteplici autorità che ha il master sul tavolo molto spesso infatti il master si occupa anche di altre funzioni ad esempio molto spesso è il master quello che fisicamente organizza la sessione trova un posto dove giocare mette in linea un server per giocare da remoto trova i giocatori fa tutto quello che può per fare in modo che il gioco scorra più fluido possibile questo non vuol dire che il master faccia parte del vostro personale di servizio anzi un modo facile per scaricare di lavoro il master quindi dargli più tempo per concentrarsi proprio sulla narrazione quella più importante e assumervi voi alcuni di questi compiti anche se da tradizione si vuole che sia per esempio il master a spiegare le regole ai nuovi giocatori arrivati se voi giocate a quel tavolo probabilmente le regole le sapete già o almeno sapete tutto quello che riguarda l'ambito delle regole che devono essere conosciute da un giocatore quindi potreste essere voi a fare formazione ai nuovi giocatori inesperti ma come ho detto prima potreste essere semplicemente voi quelli che organizzano la serata e poi dicono semplicemente al master dove venire a giocare una volta che avrà preparato la quest anche in questo caso probabilmente semplicemente parlando tra di voi all'interno del vostro gruppo salteranno fuori un'infinità di cose di cui potrebbe darsi che si occupi il vostro master in questo momento ma che in realtà non c'è bisogno che se ne occupi lui ma potrebbe benissimo occuparsene qualcun altro scaricando il lavoro il master e dandogli più tempo per fare quello che è importante che faccia diciamo che il messaggio credo che sia chiaro non aspettatevi di avere una buona esperienza di gioco se vi approcciate al gioco di ruolo come se stesse andando a guardare una recita teatro non funziona così spero che questo vi spinga a essere più collaborativi col master anche più collaborativi con gli altri giocatori in modo da fare partite sempre dal presupposto che il vostro scopo al tavolo non è divertirvi ma fare divertire gli altri comunque non voglio andare avanti che per le lunghe poi questo potrebbe diventare un rant quindi chiudiamola qua adesso la parola sta a voi ditemi voi qui sotto nei commenti cosa fate per aiutare il vostro master e anche aiutare gli altri giocatori o se siete master cosa vorreste che i vostri giocatori facessero per aiutarvi cerchiamo solo di non farlo diventare un muro del pianto per favore come sempre se avete domande e dubbi perplessità scrivete anche quelle se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che potrà crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo i telegram dove si riunisce anche il resto della community del master kai per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video